Presidente della Repubblica, cosa mi chiedete di non firmare? Ma questo non è un problema civile, questo è un problema di civiltà. O partiamo adesso a fare un piano energetico di 30 anni, dicendo che nel 2030 passiamo all'elettrificazione, nel 2030-1950 facciamo più telemetricità con le rinnovabili. Si deve partire adesso come fanno tutti i paesi, normali. Cioè noi non abbiamo un piano energetico, qui parliamo di civiltà, non di energia. Noi di energia ne abbiamo tre volte il suo bisogno. Qua sono i gasdotti che vanno a congiudersi a Brindisi, a Brindisi e a Banninao. Il gas non ci interessa neanche, il gas lo fa la quotazione della borsa di Apsen. Stocchiamo 3 miliardi e mezzo sotto il culo di migliaia di persone che non sanno niente, 3 miliardi e mezzo di metri cubi, perché lo compriamo d'estate, lo stocchiamo e lo rivendiamo in Europa, in inglese, con una borsa di più. È una merce comunale. Allora bisogna fare un piano strategico, ma non ci possono essere queste persone per fare questa grande trasformazione di cultura energetica, non del tipo di energia.